Sto conoscendo un uomo che nel frattempo sta frequentando anche altre donne, che cosa devo fare? Benvenuti nella mia nuova rubrica, un consiglio da Rossella, a cominciare! Lo so, lo so che state pensando, e dice ma vabbè, scusa ma se uno è single può frequentare anche altre ragazze, che cosa c'è di male? Però tu devi essere, perché questa è la frase che dice sempre tutto quanto, tu vuoi essere quella che fa parte della massa o vuoi essere quella che si distingue? Assolutamente no, cioè assolutamente non dovete proprio iniziare neanche la conoscenza con uno che frequenta tante donne, e sapete perché? Perché non sa quello che vuole, perché è un'anima spaesata, perché se tu sai quello che vuoi, e stai frequentando tante altre ragazze, vuol dire che sei un pescatore a rezza, non che sei singolo e puoi fare quello che vuoi, ma se sei singolo e non sai quello che vai trovando, e capisci? Praticamente un friariello, uno che vuole pariare, e capisci? Perché se io frequento una persona, sul serio, non è un fatto di avere una storia seria, è un fatto di conoscere. Quando tu conosci una persona, no, e la conosci seriamente, la vuoi conosci seriamente, cioè devi essere anche presente. Se invece tu non conosci tre, quattro, cinque, sei, vuol dire che non sei presente con nessuno, e che non vuoi conoscere in realtà proprio nessuno. Poi, diciamoci la verità, che non è che ci vuole tanto tempo a capire che una persona non è scattato niente. Quindi quando tu frequenti uno, non è scattato, elimina. Frequenta un altro, non è scattato, elimina. Se tu hai cinque o sei attorno, vuol dire che tu tieni l'arem. Non è che tu vuoi trovare una persona seria. Allora, se tu, donna, stai cercando una frequentazione seria, perché qua nessuno parte per cercare il marito, per cercare l'uomo della sua vita, che resta per tutta la vita, stai cercando, perlomeno, non dico assai, una persona che si approccia seriamente a te, no? E che inizia questa frequentazione nel modo più genuino possibile, soprattutto dopo i 40, no? Cioè, ancora a perdere tempo, con tutte queste persone scrivere, cioè, quello è faticoso. Io non so voi, ma è faticoso, buongiorno a uno, buongiorno a un altro, tanto ti scrivi come stai, poi vai a rispondere a quella. Cioè, è un impegno, un impegno che però non ti porta a niente, sinceramente. Io dico sempre, no, che noi siamo come tante mongolfiere, mongolfiere che possono volare. Ma a volte noi mongolfiere non voliamo, sapete, perché siamo a mezzare, perché riempiamo, è la nostra mongolfiere di tutte queste piccole pietruzze, di tutte queste piccole persone, no? Che presso singolarmente non fa nessun danno. Perché tu dici, ma che sarà mai? Un buongiorno, no? Niente, non mi occupa. E invece no, e invece no, perché tutte queste pietruzze piccoline fanno peso, fanno peso e non ti fanno volare. Un uomo che sa quello che vuole, un uomo che non si prende quello che passa, non tiene tante persone attorno. Non hai bisogno di essere qualcuno avendo tanti attorno. Se sei qualcuno, sei qualcuno da solo, avete capito? Fateci caso, nel momento in cui capite che state bene con voi, che voi volete bene, che non vi accontentate, no? Che non vi fate approcciare da qualsiasi persona per dipendenza, in quel momento che arriva la persona giusta. Perché? Perché avete la lucidità di capire chi è quella persona. Quando siete presi da tutto questo maragma di persone, che a volte si fa anche un po' per solitudine, no? Vabbè, io mi scrivo con tante persone, così non mi sento sola. Magari è un uomo che vuole sentirsi importante, oppure semplicemente un uomo che sta incominciando a fare un po' di pratico per uomini e donne, forse sei iscritta al programma e sta cercando di fare pratico. Quindi, cara amica, tutto questo bel discorso per dire, quando vedi che stai conoscendo un uomo e che ti scrive, poi sparisce, poi ti scrive, poi sparisce, oppure, perché poi ci stanno quelli là che dicono io te l'ho detto, fai tu, no? Quelli là che ti dicono, ma io frequento tante persone e tu dici, senta, facciamo una cosa, quando fai pace con la cervella, col cervello, tu mi fai uno squillo, perché sinceramente non è che io non voglio fare parte della massa, io non voglio fare parte di uno che non sa quello che vuole, perché tu non sai quello che vuole e siccome tu non lo sai, figurate se l'ha già saputo, è molto semplice il discorso, quindi passi lunghi, ben distesi e scappate, perché questa situazione è, ve lo dico già da ora, non pensate, no, sono una donna speciale, lo farò cambiare, lo stiamo innamorando, non fate il croce rossino, voi dovete trovare un uomo, non dovete né conquistare, né cercare di cambiare, né di salvare, non siamo nate per questo, a meno che non siete medico, a meno che non lavorate nel 118, è allora che l'è nata situazione, ma questo è un lavoro, non è che lo fate per trovare un uomo così, avete capito caro amico? Quindi questa è proprio la tipica situazione per soffrire, se tu stai cercando di soffrire, vuoi vedere come metterti in un'altra situazione problematica? Allora fai così, trovate un uomo che frequenta tante altre donne, è chiaro il concetto? Speriamo, buona vita!